Modena, ventottesima vittoria del Torino. Ballarin ce l'ha con il regolamento che vieta di giocare a torso nudo. Quattro gol saranno il bilancio della giornata di chiusura. Totale della stagione 104 gol, primato assoluto. Ecco l'undici super vittorioso nell'ordine di schieramento sistemista. Piani. Ballarin, Brigamonti, Rosetta, Grezar, Castigliano, Ossola, Loic, Pieghi, Mazzola, Ferraris.